A circa 24 ore dal fischio d'inizio di Juve Stabia Catania, in casa rossa azzurra si continua a lavorare alla formazione titolare. Sottil ha provato diversi sistemi di gioco, ma dopo una serie di valutazioni sembra probabile che alla fine si tornerà al 4-2-3-1 di inizio stagione. La scelta dipende anche dal rientro a pieno regime di Rizzo, che potrà dare al tecnico rossa azzurro quella ampiezza di cui necessita centrocamp, che gli permetterà di giocare con un 2 in linea mediana e che naturalmente si completerà con capitani viaggianti. In porta ci sarà ancora una volta Pisteri, a passo non impeccabile contro il Catanzaro, soprattutto sul primo gol dei calabresi, ma sempre inamovibile del suo ruolo quanto meno fino ad ora. In difesa invece, se il duo centrale vede Aia e Silvestri favoriti, si prevede un avvicinamento sulle fasce. Dato l'infortunio di Calapari, infatti, sarà quasi sicuramente Ciancio a giocare a destra, mentre a sinistra Barai è favorito su Scaia. Probabile ritorna il trio titolare sulla tre quarti di campo, con l'odio affiancato da Mannei, il rientrante Barisic sul lato destro. Stesso discorso infine nel ruolo di attaccante centrale, con Marotta favorito su Curiale, dato il momento poco felice del capo cannoniere della stagione passata, che comunque dovrebbe trovare spazio nel secondo tempo. Grazie a tutti.